Inizia mia, torno a casa tua, ti aspetterò dove schiugnare queste mura. Oggi inizia mia, nella stanza tua, c'è ancora il letto per fai bocconotti a me. Venti minuti dentro, ma c'è stata assolutamente tutta. Voglio un voto per l'interpretazione detto questo. 4.500 mi piace su questo video, entro la mezzanotte. Si, entro la mezzanotte e oggi... Anzi, no, entro le 18 e oggi stesso arriva il doppio episodio di... Giuro che la prossima volta strillo, anche a mezzanotte, qualora dovessero arrivare mi piace. Perché stasera c'è sta calciomercato speciale. Detto questo, tifosi di tutte le squadre, ce ne stanno veramente di tutti i colori, quindi preparatevi. Vado subito, scusate, me ne sali dopo il pettone con la cipolla e la curcuma. Detto questo, scusate. Allora, andiamo molto molto rapidamente, vado da quelle un po' più moscettine e poi andiamo a salire. Inzaghi Brescia, Inzaghi no, quello che sta all'interno, fratello. Filippo Inzaghi, Brescia, ci siamo. Sembra che abbiano limato la differenza che c'era e, ragazzi, le parti sono vicinissime. Probabilmente Inzaghi diventerà il nuovo allenatore del Brescia. Questa è grossa, ma la faccio una piccola. Ragazzi miei, sarebbe clamoroso perché il Chelsea starebbe pensando, vista la vittoria della Champions, i sordi che ieri entra, siccome hanno investito poco l'anno scorso, starebbero pensando di investire 200 milioni di euro. Ma no per 10 calciatori, per uno. Ed è un calciatore del Borussia Dortmund. E indovinate un po' di chi stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di... Höland. Dovesse accadere sarebbe una cosa di quelle particolarmente clamorose. Comunque il valore del mercato del calciatore è quello. Chi lo vuole, se tira fuori quei soldi, se lo prende. Ve ne dico un po' sull'Atalanta, cari tifosi dell'Atalanta. Ve ne snocciolo prima una. Via Ilicic. Ilicic, ragazzi miei, non so perché. Non lo considerano più un calciatore all'altezza, evidentemente. Vogliono monetizzare. Chiedono 10 milioni di euro. Il Milan a quella cifra ha detto no. Non è mai che se 10 milioni di euro per Ilicic. Troppo vecchio, si è defilato. Ma fate attenzione perché i ragazzi miei ci hanno messo gli occhi sopra la Lazio. Maurizio Sarri lo vorrebbe. Farebbe veramente faville. Follie, no faville. Pur di averlo, quindi fate attenzione. Sapete con quali profili vorrebbero sostituire Ilicic? Ce ne sono due dell'Ill. Uno è Bamba o Bamba, che dir si voglia. O Icone. Secondo che, se non sbaglio, costa un pochino di più rispetto a Bamba. Alla Bamba. Facciamo il crossover. Un altro. Parabairar la Cinzia. Parabairar la Cinzia. Se potrebbe fare. E ok. E questa ve l'ho detta. Altro obiettivo dell'Atalanta, che tra l'altro è anche della Roma, è Coop Mainers. Ragazzi miei, profilo valutato 20 milioni di euro, ma l'Atalanta non vuole spendere quella cifra. Vorrebbe spendere un pochino di meno. Con la Roma, che osserva, guardinga. E probabilmente sto calciatore alla fine dovrebbe arrivare in Serie A. Allora, ultimora, c'è chi dice che attualmente tra le due offerte quella superiore sia quella dell'Atalanta. Ok. E va bene. Questa ve la dico dopo. Allora, cari tifosi del Napoli, si sta parlando, come tutti gli anni in realtà, di mercato in uscita di un calciatore importante. Importantissimo. Parliamo di un difensore centrale che sta facendo la storia del Napoli. Parliamo di Coulibaly. De Laurentiis vorrebbe cederlo. Vorrebbe monetizzare per poi reinvestire e creare un gruppo un po' più E, magari abbassando un po' il livello della difesa, ma andando ad aumentare centrocampo e via dicendo. Decide Spalletti. Lui ha detto, se Spalletti dice che Coulibaly deve restare, perché pensa che siamo... Lo faccio, fu così, venduto a 500 milioni di euro. Questo è quello che hanno detto. Sono state messe parole in bocca a De Laurentiis. Non so se sono realmente parole sue, ma lo dicono le indiscrezioni. Noi le riportiamo e ovviamente le commentiamo. Donnarumma Paris Saint-Germain lo ha comunicato ieri di marzo. Ne ho parlato nel video delle bombe notturne. E non solo, ragazzi miei. Non c'è stato questo rilancio da parte del Barcellona. Quindi l'unica squadra in corsa, hanno offerto un sacco di soldi a Donnarumma, è proprio il Paris Saint-Germain. Preparatevi che Donnarumma si appresta a vestire la casacca del Paris Saint-Germain. Cari tifosi del Milan, molto molto rapidamente, il Milan sta appuntando a tenere tonali. In realtà non sono disposti a riscattarlo per le cifre che chiede il Brescia, ma stanno provando ad inserire delle contropartite per evitare le caccia ai soldi. Si parla di Colombo. Cioè chi ha parlato anche di Pobega, ma onestamente la vedo un po' più difficile, perché Pobega mi sembra uno veramente spiselloso e chi lo sa quello che accadrà. Con il Cagliari che si è defilato. Cagliari che era interessato a tonali, si sa, poi si sono defilati. E ok, questa ho detta, è a cancello perché se non mi sbaglio è valido, dico forte. Cari tifosi della Juventus, sta tornando sempre più in voga e in auge, non ho uche, quello del Milan, Locatelli. Si dice che la scelta, allora in teoria la scelta numero uno per Allegri sarebbe Pjanic, ma ci sono dei problemi a livello economico e via dicendo. Barcellona che dovrebbe fare una plusvalenza importante e quindi sembra non si possa fare una lira. E a sto punto si sta puntando tutto su Locatelli. Stanno discutendo con il Sassuolo. Sassuolo che sta aspettando l'Europeo. Dove si fa qualche prestazione. Va verso l'alto l'offerta, o meglio, quello che chiederebbero. E va bene così. E stanno cercando sempre a Juventus di anticipare l'arrivo di Rovella, che era stato acquistato dal Genoa. Stanno facendo, perché mi pare, se non ricordo male, anche per la prossima stagione, in prestito al Genoa, non me sfugge sta cosa. Comunque ho letto che stanno cercando di anticipare l'arrivo di Rovella, perché Allegri punterebbe su quel tipo di profilo. Quindi fate particolare attenzione. Carissimi tifosi del Milan, situazione Giroud. Rinnovo automatico del Chelsea. Giroud quindi ha rinnovato in maniera completamente automatica. Il Milan non si è defilato. Giroud ha strizzato l'occhio al Milan, e ve l'ho detto anche ieri. Ma la volontà del Milan è quella di prenderlo solo se riesce a liberarsi a parametro zero. Non vogliono pagare con guagli economici e costi dei cartellini, seppur di entità bassa. Non lo vogliono fare. Quindi dipende anche dalla volontà dei Giroud. Può essere pure che si riesce, perché non è che c'ha un valore economico di quelli pazzeschi. Restate sintonizzati, sicuramente torneremo sull'argomento. Queste altre due sul Milan ve le dico tra poco. Parliamo della situazione Sirigu, perché sono due le strade. O rinnova o va via. Una via di mezzo, vabbè, sono quelle per forza di cose. E c'è chi dice, nonostante si è parlato di lui Patricio, che potrebbe essere un altro calciatore a poter vestire la casacca giallorossa. Sirigu, il cui contratto scade a giugno 2022, è messo a risalire il doppio polpettone. E in quel caso bisogna capire Paolo Lopez, perché Paolo Lopez non si riesce a piazzare. Mirante sembra sia già andato via, si è svincolato. E via dicendo, le vie del calciomercato, lo sappiamo, sono comunque infinite. A me Sirigu come portiere non dispiacerebbe, anche se in questa stagione non è che abbia fatto proprio il suo massimo. Ha avuto sicuramente stagioni migliori. Cari tifosi della Juventus, Chiellini rinnova. È praticamente, non ufficiale, ma quasi. Allegri ha detto, mi dovete rinnovare Chiellini? Prestazioni con la nazionale e via dicendo. Però sembra vogliano aspettare la fine dell'Europeo, anche per capire l'integrità fisica. C'è chi dice che qualora non dovesse rinnovare Chiellini, potrebbe anche decidere di smettere. Clamorosa come cosa, ma lo vedo ancora in calciatore, quindi mi sembra un po' strano. Allora, l'Atletico Madrid sta puntando due calciatori della Serie A. Uno è Vlaovic, lo vorrebbero a tutti i costi, ragazzi miei, ma proprio in una maniera di quelle esagerated. E sembra che sia già pervenuta un'offerta di 60 milioni di euro alla Fiorentina. È commesso che sta un attimo a cercare di capire quello che deve fare, perché la concorrenza è spietata. Ci sono anche altre squadre sul calciatore, vuole capire se riesce a trattenerlo. Ci sono però delle prove tecniche, tra virgolette, per cercare di rinnovare il contratto. Stanno a cercare di convincere, ma non sarà facile con la corte, non si può paragonare attualmente a Fiorentina, a un Atletico Madrid, o ad altre squadre, anche italiane, interessate al calciatore. L'altro lo sappiamo già, Lautaro Martinez. Quello che vi dicevo ieri su Hakimi, che se il Paris Saint-Germain non alza l'offerta a 80, offre 60, l'Inter rinuncerebbe a venderlo, è vero. E in quel caso, indovinate un po', il primo calciatore a partire sarebbe proprio Lautaro Martinez. Resterebbe Hakimi e partirebbe Lautaro Martinez. C'è già l'offerta pronta di 85-90 milioni di euro dell'Atletico Madrid, quindi in quel caso c'hanno tempo fino al 30 giugno. Se non parte Hakimi, parte Lautaro. Lukaku lo vogliono tenere a tutti i costi. Mo, perché non gli stanno a rinnovo al contratto? A Lautaro, il motivo è semplicemente questo. Devono capire quale dei due cede. Loro vogliono cedere a prezzi importanti, fa una plusvalenza importante e finisce la storia. Quindi, se non sono soddisfatti dalle proposte che arrivano, cambiano obiettivo e a quel punto potrebbero rinunciare Lautaro Martinez. Lianco Atalanta, ragazzi miei, sono molto, molto interessanti a questo profilo, ma sono interessati anche a Dantist, se così si pronuncia, classe 2002 del Toulouse, del Tolosa. Discorso Romero aperto col Manchester United. Per Cassiglie di 65 milioni, l'altro giorno erano 60, ma a quanto pare sono 65. Sarebbero disposti a rinunciare eventualmente. Emerson Palmieri, cercato da mezza Italia e non solo, ha una clausola di rinnovo automatico che sembra ancora non sia stata esercitata. Non ho capito per quale motivo la stagione è finita. Quindi non scadrebbe il suo contratto nel 2022 e questo potrebbe far pretendere al Chelsea almeno una quindicina di milioni di euro da quel che ho capito, ma non si capisce bene l'indiscrezione così come l'hanno tirata fuori, perché in realtà anche in scadenza nel 2022 15 milioni di euro, ah no, scusate, ho letto male, 25 milioni di euro in scadenza a un anno, capite bene, no? ok, ho letto male, ho scritto male o ho letto male, comunque vabbè, l'Inter sarebbe disposto a offrire massimo 8, 10, 12, roba del genere, quindi vabbè, vediamo quel che accadrà, situazione simile comunque a Giroud. il Napoli è su un calciatore interessante in realtà, un profilo però low cost, se così lo possiamo definire, basic instinct, basic, basic, del Bordeaux, offrono 7, massimo 8 milioni di euro, ma il Bordeaux ne chiede 10, fate attenzione perché è un profilo che interessa particolarmente a Spalletti, quindi vediamo quel che accadrà. Belotti verso la Roma? Sì, ve l'ho già anticipato, lui ha accettato, Cairo mette le mani avanti e dice Boni, facciamo passare all'europeo, a rischio di perderlo a zero l'anno prossimo, ma per il momento non vuole cederlo, dovesse la Roma riuscire a prenderlo, o chi per loro, ragazzi miei, i profili per sostituirlo sono 5, Simeone, Kwame, Petagna, Piontek e Lasagna, Lasagna che, Yuri Cenova, lo vorrebbe, quindi vediamo quel che accadrà. Questa è grossa, cari tifosi del Napoli, perché il Barcellona, se vuole liberare dei piani, ce ne rientra più nel progetto tecnico e avrebbe offerto al Napoli proprio Pjanic per Fabian Ruiz, ma De Laurentiis l'ha guardati e gli ha detto no, io voglio solo sordi per Fabian Ruiz, io dei Pjanic non ce faccio, guarda, spalletti, voglio Pjanic, Pjanic, no, sembrate no, ragazzi, cioè, solo cash per Fabian Ruiz, plus valenza piena e secca per reinvestire con chi dice lui, non con Pjanic, situazione molto particolare. Vinicius del Benfica è stato accostato alla Roma, ma la Roma ha detto no, non siamo interessati a questa, o meglio, non sono interessati, hanno smentito questa indiscrezione del calciomercato, Giacomo ha verso la permanenza alla Roma, ragazzi, questo è quel che sta trapelando, ma Mourinho chiede un terzo attaccante oltre Borca Majoral, quindi si valuta qualche profilo low cost probabilmente con Giacomo, Borca Majoral e qualcuno che va a completare il reparto, non credo che arriverà un big o un top, ma guarda, De Pai, qua ho detto tutto, qua, eh, ne sono rimaste un paio, Milan, fiduciosi per Brian Diaz, ragazzi miei, si va verso il rinnovo del prestito, Ancelotti avrebbe dato il nulla, Osta, quindi felici e contenti tutti quanti. Cialanoglu, cauto ottimismo per il rinnovo, che significa questo e non che sì? Significa che l'offerta pervenuta dal Milan l'ha già ricevuta, non alzano l'offerta, ma nelle ultime ore, se prima si parlava di un no secco, quindi probabilmente si diceva Cialanoglu andrà via dal Milan, sembra invece che adesso ci stia ripensando, sembra che sia disposto ad accettare questa offerta del Milan per restare al Milan, ha ricevuto dal Catarro un'offerta pazzesca e non dal Catarro, c'ha anche altre offerte economiche, non lo so, forse per il suo futuro degli ripensamenti possono anche starci arrivati a questo punto della stagione, uno valuta un po', con il Milan si è trovato bello, vabbè, vediamo, vediamo, insomma, un giorno ne dicono una cosa e un giorno ne dicono un'altra. C'è chi parla di un'altra indiscrezione che va in contrasto con quello che vi ho detto poco fa su Edin Dzeko, c'è chi dice che Dzeko stia cercando di liberarsi gratuitamente dalla Roma per andare alla Juventus, questo è quello che stanno dicendo, quindi a quale delle due credere io onestamente non lo so, però le hanno riportate entrambe e io ve le riporto da Dzeko non mi meraviglierei della situazione del genere, però liberasse a zero, è passato un altro anno, per carità, il valore del mercato del calciatore scende, se Mourinho ha detto te voglio, una situazione molto molto particolare, a zero, va bene così, vediamo quel che accadrà, l'ultima, è un'indiscrezione che vi ho già lanciato ieri e che vi ripropongo nuovamente ragazzi miei, Hakim Ziyech al Milan, si parla anche di Napoli, offerta di circa 35-40 milioni di euro, c'è chi dice anche meno in realtà, c'è chi dice che il Milan proverà di inserire una contropartita, bisogna capicquale, c'è chi parla nero magnoli addirittura, ne sto a sentire veramente di tutti i colori e lui tra i due, tra Milan e Napoli, sono uscite entrambe le indiscrezioni, preferirebbe il Milan, quindi vediamo quel che ha Ziyech sarebbe un colpaccio pazzesco secondo me, ma veramente pazzesco, seppur quest'anno non ha fatto la sua miglior stagione di sempre, però un profilo veramente interessante, una marea di vi piace, stasera doppio episodio dopo il calciomercato, commentate con ieri, iscrivetevi al canale, mi sono andate, ciao!